Vorrei chiedere la cura esclusiva della 231. Motivazione specifica? Simpatia reciproca. Bene, su, giù, piano, su. Quanti anni sono passati? Sei ancora arrabbiata con me? La mamma è tornata. Non dobbiamo essere cattivi. C'è questi. Lei non ti vuole. Non ti ha mai voluto. Tu sei come me. Io sono peggio di te. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, La Battaglia dei Sessi. Al nono posto, Black Panther. All'ottavo posto, Justice League. Al settimo posto, Thor, Ragnarok. Al sesto posto, Valeria nella città dei mille pianeti. Al quinto posto, Kingsman, il cerchio d'oro. Al quarto posto, Ready Player One. Al terzo posto, Star Wars, Gli Ultimi Jedi. Al secondo posto, Dunkirk. E al primo posto, ancora lui, It. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito, blog.screenweek.it. Ciao!